Siamo pronti per montare quello che sicuramente vi aiuteranno nei prossimi giornalamenti Quello che adesso andremo a montare è questo power tower Cioè una struttura per fare trazioni di abdominali Questa è l'azienda che me l'avevo ammaggiato Comunque dopo vi metto tutti i link e il wifi E ora andiamo a montarlo Andrò a montarlo Io sono qui con Bracky Aiutami tu Allora andiamo a aprire il sascauto Che bravo che ha Papino Ecco Cosa fai Cosa fai E voilà Madonna Ora andremo a montarlo Allora È Natale per Riccardo Non vedeva l'ora Sono distruzioni Questa è cosa che dovrà uscire poi Nei raggi è in tinta Ah sì Ci sono i cuscinetti Allora andiamo a prendere le soluzioni Perché capiamo da dove dobbiamo partire Non rispondo Non so che faccio prima a aprire tutti Perché se no ho capito una massa Senti tu Mi ricordo che tu che dai gli ordini qua Non si monta qualcosa No forse è più semplice Ecco Ma fa che è andato molto bene Eh sì Quanto pesava Eh Quanto pesava Un po' Vabbè l'altro cuscinetto Con il brand Sbarra Andiamo a prendere curva 1 Curva 2 Che due curve sono quelle Ok Sono questi qua Ok Prendere il numero 1 Il numero 2 E avvitarlo con la vite numero 12 La vite numero 12 Sono queste Two hours later Eh non capisco Oh dammi a me Madonna Ogni volta qua Devo fare l'uomo della situazione Give me Dammi Riccardo dammi quello schifo di istruzione Puoi darmelo Stai vediamo le istruzioni Sono le 16 e 40 Ah è 19 Vediamo a che ora Finiremo sto cosa Ehi c'è scritto Prendere pezzo 1 Pezzo 2 E avvitarli Non è scritto come Questo davanti a questo Quindi metti quello là Dall'altra parte Girato Sì No Sei all'incontrare Giralo così Le curve si devono guardare Sì Quindi Così Così Ok Poi sopra ci metti questi grossi Ma è possibile che così Dopo si mette diversamente Ma è giusto per attaccare le cose Ok Cosa devo fare adesso Prendere questi Questo Ok Quello va attaccato Insieme a questo A questo qua Quindi questo Va messo là Questo va appoggiato così Così? Ma se è sicuro questo? Sì E poi questo Va messo così Eh ma me lo metto dalle viti Eh beh E questo qua cosa serve? Eh bisogna rifare lo stesso Anche dall'altro Ok E comunque viti Devo evitarlo? Le 15 Ok Qui ho fatto un ordine In tutte le viti Così da capirci meglio Poi ci sono Le chiave inglesi E la brugola Per fare Per avvitarle Mentre qui nel sacchettino Ci sono tutte le viti Che servivano per gli schienari Quindi questo lo facciamo dopo Quindi niente Ora che bellissima Mi hai dato una mano Possiamo partire Che viti devo utilizzare quindi? Le 15 Le 15 Vi ho detto? Sì Voilà Le 15 sono Queste qua Intanto le prendo 6 Boom Potremmo andarmi in testa Io lo prendiamo un attimo Cosa devo fare? E ora sto mettendo i piedini Di sotto Così che riesco poi a montare A evitare i bulloni Perché altrimenti facevano lo spessore Qua devo avvitarlo Tieno fermo? Mettilo anche direttamente All'altra parte Allora Guardate Ok Ora Ci va messo quel pezzettino Eh sì Quest'altro parte Dopo un'ora Siamo ancora qua Eh Già Già lo fissi da? È fissato Mh Adesso ho fatto il pezzo Perché mi sa che Inizio di mangiare Io gli ho detto Dare una mano 5.37 Quindi è il momento Della Merendina Come al solito Ci bagliano sempre però Ok Ho costruito La base Ma ti ho messo una vita Non è possibile Che è stato così detto Ma guarda Sono solo le 18.03 Vedete Non è che tutto va così? Non hai l'idea Dall'altra parte Quello Bravo Bene Ora Un frattempo Brecchio Poca d'ora Controllo Ora Vieni cosa devo fare Nel numero 7 Nel numero 5 Quindi Opla Questo Guarda Oh maronda E poi adesso bisogna scegliere È altissimo Mi scelta la vite Mi scelta la vite E la metto Il premuto Spera che abbiamo quasi finito Ragazzi Non ci credo È quasi finito Sto a guidare L'ultimo bullone Però è venuto benissimo Sono distrutto E sono le 18.34 Anche ora avevamo iniziato Alle 16.30 Mezza E 40 forse Sì Te l'ho detto Te l'ho detto Che ci avevo messo un botto Povero rompino Ma mi ha detto Ha detto che l'ho detto così No D'altra parte Sì Cioè ma vi hai detto Quanto è grande sta cosa Dove la metti Ma dove la metti Nel tuo studio la mette Va bene Vediamo I gommini Ah ma qua posso fare anche gli addominali O quelli che tiri su Certo Posso fare per te Eh certo Immagino Loser È resistente Adesso non dico Però non provo Ma quanto costa Questo che ho preso io Attualmente è sold out Ecco Però ce n'è uno molto simile Sempre nella stessa marca Che costa 149 euro Strano che te l'abbiano mandato No aspetta Scherzavo Visto che era sold out Perché comunque c'è anche il sito Quindi vi metto sia il link di Amazon Che vi porta allo store Di questo brand Sia il link del loro sito Magari sul sito lo trovate E comunque il prezzo Era più 150 euro Ora lo dobbiamo provarlo E' un'altra parte Stiamo provando qua Per fare gli addominali Mi sembra bello resistente no? Ok Provo addominali superata Dobbiamo sentire BAM Mi ribascia Madonna E' schioccato Mi vuole far far male E ora una trazione Vai vai Ci siamo? Boom Ok A fare un'altra Un po' di inverse Beh resistente Considerate che io peso 84 kg E poi cosa poter si può fare? E poi A me poter si chi metterà di qua a fare I filamenti Ok Struttura l'abbiamo montata Ora sto decidendo se Allenarmi o meno Perché sono un po' distrutto Però comunque vorrei allenarmi Così che è da provarla anche bene Che dite? Ci alleniamo? Ma si dai Facciamo così Mi prendo un bel pre-workout Di bulk Così mi sale proprio Le fiamme mi salgono Va bene Quindi Allora Prendi tutto Sistemo il bordello Perché se no Melissa si arrabbia Metto così Forse così mi vedete meglio Quindi ora faccio 10 serie Da 5 colpi di dip Con una pausa Di più o meno Un minuto Tra una serie e l'altra Direi che siamo pronti A partire 3 2 1 Go Devo farne 5 Ma mi raccomando Movimento Sempre tutto il rom Quindi scendiamo E risaliamo 1 2 3 4 5 E vanno Scusa la pausa Posso un po' di sfera Quanto è bella la canzone Bottiglie Prive 2 1 Via Sono all'ultima serie Mi sono andato La maglietta L'ho giocato 1 1 2 3 3 4 5 Voilà Ora devo fare Piegamenti a terra Cosi detti anche push up Alla fine del push up Li faccio qui Devo fare 10 serie 5 serie Da 10 1 2 3 4 5 5 6 8 8 9 10 10 Devo fare L'ultima serie 1 2 2 8 1 2 3 4 5 6 13 14 9 5 6 6 6 7 8 9 9 10 11 11 11 12 15 15 15 16 16